Grazie a tutti Abbiamo le sue corrispettive reti negli anni precedenti in più abbiamo trovato un'altra cosa Si rifà sempre all'archivio che non è la collezione che abbiamo in vendita adesso è quella che teoricamente è presente Fai già una grande selezione, la metto in parte e poi... Allora qui vecchio perché sono in ordine cronologico e parti da qui Allora qui Ci passiamo dal 78-80 una scarpa da ballo Una scarpa già che si avvicina allo zoccolo O anche... No, bellissima 94 E aumentiamo Questa viene qua 7 e questo 94 Si trovano Eccole qua tutte le punte Questa forse... Vanno di là A presto A presto A presto Dove facciamo? Dove facciamo? Dove facciamo? Dove facciamo? Dove facciamo?